Bene amici di AndroidBlock.it, oggi vediamo insieme alla recensione del Samsung Gear Live, il primo smartwatch, dopo l'GG Watch, ad avere a bordo Android 2, il sistema operativo di Google adattato alla perfezione a questi nuovi dispositivi portatili che adesso andremo a scoprire in ogni sua spacciutatura. Eccola qui sotto la nostra telecamera la confezione di vendita del Samsung Gear Live. Come vedete è la stessa che abbiamo anche nelle precedenti generazioni di Samsung Gear con a bordo Tizen che siamo abituati già a conoscere, quindi nessuna novità almeno per quanto riguarda la confezione di vendita. Andiamo subito ad aprire invece questa del Gear Live per vedere cosa contiene. Ovviamente abbiamo qui in primo piano lo smartwatch che abbiamo lasciato già acceso che adesso andremo subito a vedere come funziona e quali particolarità presenta grazie ad Android Wear. Abbiamo qui poi la basetta, l'adattatore per la ricarica con questi pin nella parte posteriore che vanno a collegarsi e quindi ad adattarsi a quella che è la parte posteriore dell'orologio. Vi faccio subito vedere come funziona questo adattatore, e quindi va all'incastro nella parte superiore andandosi anche ad agganciare a quelle che sono due piccoli dentini che abbiamo qui nascosti nella parte sotto questa piccola basetta. Piccola basetta che servirà anche per trasformare quello che è l'ingresso per la porta micro USB e quindi di conseguenza collegarla all'alimentazione per ricaricare la batteria interna di questo device. Ovviamente è un aggeggio che è rimovibile, quindi dobbiamo utilizzare solamente nel momento della ricarica visto che è anche piuttosto ingombrante, quindi non è possibile tenerlo nel momento dell'utilizzo al polso. Dicevamo, la confezione di vendita quindi comprende anche quelli che sono i classici manualetti delle istruzioni con tanto di nome Google, visto che comunque il dispositivo è acquistabile sul Google Play Store e ovviamente abbiamo anche il caricatore con presa micro USB per la ricarica della batteria interna che comunque ci garantisce con un utilizzo intenso e con le notifiche sempre attive circa un giorno di utilizzo e quindi magari una necessità comunque di caricare la batteria con questo alimentatore. Andiamo subito invece a vedere il device nel specifico che cosa ci offre. Ovviamente dobbiamo partire dal presupposto che per funzionare questo dispositivo ha necessità di essere abbinato a quelli che sono gli smartphone di ultima generazione. Smartphone di ultima generazione che permettono il collegamento tramite Bluetooth 4.0 e tramite un'applicazione di nome Android Wear, ovviamente scaricabile dal Play Store in modo del tutto gratuito, che ci permette di abbinare il dispositivo e associare delle varie funzioni. Ovviamente noi stiamo utilizzando un dispositivo OnePlus One insieme al nostro Gear Live che previa una piccola configurazione tramite ovviamente l'utilizzo del Bluetooth ci permetterà di decidere quali funzioni abbinare allo smartphone, quindi a partire da quelle che sono le classiche applicazioni di agenda, del cronometro, della sveglia e quindi decidere di associare una o l'altra applicazione e quindi andare a decidere quelle che sono tutte le funzioni da attribuire poi allo smartphone. Vedete, in questo caso siamo collegati via Bluetooth e abbiamo ricevuto sullo smartphone le notifiche di WhatsApp quindi pienamente compatibile non solo con quelle che sono le applicazioni di sistema ma anche con tutte le altre applicazioni che abbiamo installato sul nostro dispositivo o almeno per quanto riguarda il buon 70% delle applicazioni disponibili nel Play Store. Andando subito a vedere invece cosa ci offre questo device nello specifico andiamo subito a fare una rapida panoramica di quelle che sono le sue specifiche tecniche. Abbiamo un display da 1,6 pollici di tipo Super AMOLED dotato ovviamente di Bluetooth 4.0 e di certificazione IP67 quindi resistente alla polvere e all'acqua ovviamente per piccole immersioni e non per diverse ore. Ovviamente è dotato anche di una CPU da 1,2 GHz per 4 core è inutile dire che è dotato anche del lettore per i battiti cardieci che non è presente sul G-Watch l'altro smartwatch di casa Google ovviamente accelerometro e giroscopio anche della funzione grazie al microfono che è presente di attivare i comandi vocali tramite appunto la dicitura OK Google che come vedete funziona in modo assolutamente perfetto che quindi anche ci permette di ascoltare tramite la nostra voce dei comandi che poi lo smartwatch eseguirà tramite la connessione ad internet del telefono. Connessione ad internet del telefono che ovviamente non è va ad essere condivisa tramite il Bluetooth visto che il dispositivo non è dotato di connettività Wi-Fi adesso sta partendo in continuazione o che Google forse ci ha preso gusto questo non è dotato di connettività wireless o anche 3G a se stante ma ovviamente bisogna appoggiarsi a quella che è la connettività dello smartphone stesso come vedete adesso sullo smartwatch continuiamo a ricevere delle notifiche visto che sono abilitate tramite lo smartphone anche abbiamo la possibilità di disattivare la vibrazione e quindi di disattivare tutte le notifiche tramite uno swipe dall'alto verso il basso mentre abbiamo anche la possibilità di cambiare in modo molto semplice quello che è il quadrante che è l'aspetto forse più futile di questo device vedete che ci offre diverse possibilità di impostare quella che è la grafica la schermata principale di quello che è lo smartwatch che andremo ad utilizzare come classico, tra virgolette, orologio mentre con un doppio tap accederemo a quelle che sono le funzioni di Google Now e quindi dove ci sono scritti gran parte dei suggerimenti dove si può accedere anche a quello che è il pannello delle impostazioni adesso vedete accediamo al menu delle impostazioni vi facciamo vedere cosa ci presenta nel menu delle impostazioni appunto ci dà la possibilità di regolare la luminosità che quindi adesso andremo ad abbassare per darvi una qualità migliore nel video o nella telecamera dicevo una qualità che è possibile settare da un valore da 1 a 5 che con una luminosità massima negli ambienti con molta luce forse non si riesce effettivamente a vedere lo schermo che pur essendo un Super AMOLED ha sì negli ambienti chiusi una buona qualità dell'immagine ma negli ambienti aperti lascia un po' più a desiderare sia vi è anche poi la possibilità di attivare e disattivare la modalità aereo in modo da non ricevere notifiche e disattivare quelle che sono le connessioni con tutti i dispositivi ovviamente vi è la possibilità anche di cambiare la tipologia del quadrante le informazioni sul dispositivo ripristinarlo, riavviarlo e spegnerlo ritorniamo al menu principale vi faccio vedere un po' come funziona Google Now quindi Google Now funzionamento con questo Samsung Gear Live praticamente identico a quello che è con il classico smartphone quindi il classico smartphone scusate quindi con il semplice comando ok Google Now vedete adesso è già avviato invia sms a Sara e dille che faccio tardi e adesso mi chiederà quale delle due Sara sulla mia rubrica e quindi dovrà inviare l'sms al nostro contatto in modo del tutto automatico ovviamente questa è una delle pochissime funzioni che ci permette di svolgere questo dispositivo e ci può anche permettere di scrivere delle note e andarle a salvare sulla apposita applicazione che abbiamo sullo smartphone che poi andremo ad abbinare allo smartphone stesso che è quindi con l'applicazione predefinita per le note oppure ci potrà permettere anche di impostare le sveglie vedete svegliami alle 7 vedete ci chiederà di impostare la sveglia e lo farà in modo del tutto automatico passata la sveglia tramite comando vocale quindi vibrerà in modo continuo fino a che non decideremo di staccarla anche lo smartwatch quindi se magari ci addormentiamo con lo smartwatch al polso vibrerà di continuo finché appunto non la staccheremo ovviamente le funzioni di questo smartwatch sono in continua espansione perché Android Wear è ovviamente un sistema ancora diciamo appena nato quindi visto che è stato distribuito solamente da pochissime settimane probabilmente con l'arrivo di Moto 360 nelle prossime settimane avremo una panoramica più completa di questo sistema operativo che pur essendo acerbo nel Play Store ha già un grande supporto da parte degli sviluppatori che stanno sviluppando anche un gran numero di applicazioni compatibili con questo nuovo diciamo sistema operativo e quindi per rendere sempre più operativi questi smartwatch che apparentemente potrebbero magari sembrare inutili a molti ma effettivamente durante l'utilizzo quotidiano magari se ne può sentire la necessità soprattutto magari per chi è magari sempre in viaggio non riesce a guardare lo smartphone quindi magari risponde ad un sms rispondere ad una mail o magari anche la funzione più interessante che abbiamo notato è stata sicuramente quella della navigazione ovviamente tramite maps che abbiamo installato sul nostro device riuscivamo a vedere la navigazione stradale anche sullo smartwatch quindi è molto più semplice stare a guardare in questo modo magari la navigazione stradale mentre si sta guidando senza troppe difficoltà per quanto riguarda invece la versibilità e i materiali con cui è costruito questo Gear Live è senza dubbio più rigido più pregiato almeno per quanto mi riguarda dell'LGG Watch che è realizzato completamente in plastica Gear Live che ricorda molto il design che abbiamo già visto con il Gear 2 Neo che è ovviamente il modello del 2014 abbinato anche al Galaxy S5 con questo cinturino che ovviamente non è intercambiabile con altri generici ma solamente con uno proprietario di Samsung che forse è stata la scelta più negativa a bordo di questo Samsung Gear Live ovviamente le potenzialità di questo dispositivo le andremo a vedere forse nei prossimi mesi con uno sviluppo maggiore di Android Wear quindi per adesso è tutto se avete altre domande su questo Samsung Gear Live non esitate a scriverci e vi invito a guardare la nostra recensione completa su androidblock.it per tutte le altre informazioni su questo device